Secondo me il servizio civile è un'esperienza di vita. Per me il servizio civile è bene. Mi sta aiutando molto a avere proprio stima per me stessa, con sicurezza. Certo, monitoriamo innanzitutto come gestire le prime emergenze, come comportarsi in particolari situazioni o anche come relazionarmi con gli altri. Una persona dovrebbe fare la domanda al servizio civile perché il sorriso che è spinto sulle labbra delle persone dopo che le aiuti vale più di un'altra cosa.